esercizi disposti da mister giovanni di giugno per i giovanissimi oggi vai oggi è giovedì 5 settembre e c'è un dolce un piccolo dolce l'ho offerto io anche il tè ecco fabio masciarelli ecco emanuele che ha terminato il suo esercizio fabio adesso parte emanuele non mi ricordo come si chiama quel ragazzo che ha la maglia del milan non mi ricordo bravo gabriele ecco pure alessandro ramulti dove finisce l'esercizio quando finito un pallone deve stare qua sempre c'è una specie di triangolazione con il pallone disposto dal mister vediamo da questo lato c'è di fresco frango che parte lui con l'esercizio e dall'altro lato parte alex mammarella e dall'altro lato c'è pellegrina simone ecco sta terminando l'esercizio adesso parte gabriele con fabio masciarelli dall'altro lato c'è l'ultimo arrivato un omonimo di fresco sempre matteo qua c'è luca rulli che fa anche lui l'esercizio si accinge là in fondo ci abbiamo l'arnè ecco con la maglia del milan da quest'altro lato è emanuele che è ritornato dopo una parentesi di importunio sempre l'arnè che termina l'esercizio lo vediamo con la maglia del milan ma perché ancora non arriva la divisa dopo saranno tutti uguali là in fondo vediamo ecco sta partendo gabriele passa a nicolò nicolò niente si riparte con l'esercizio che non è valido fa ripetere l'esercizio ecco riparte nicolò ripete l'esercizio Gabriele Gian Cristoforo da quest'altro lato c'è Enrico Caporale da quest'altro lato c'è Nicolo Dancelo che termina l'esercizio ecco qua c'è Johnny Perrucci che è successo ti fa male? beh va bene allora riposo gli esita il mister? il mister sta là? non voglio rischiare dice per domenica mi fa malicare ecco qua Alex Mammarella là in fondo c'è quel gruppetto c'è l'ultimo di Fresco Emanuele Enrico Caporale e di Fresco Franco invece da quest'altro gruppo stanno mettendo la casacca bianca c'è Fabio Masciarelli Manuele Caporale Gabriele Gian Cristoforo e dietro c'è Alessandro Ramonti qua il mister Giovanni di Giulio questo qua c'è con la maglia nero azzurra Simone Pellegrina Luca Rulli Larnè Federico dopo c'è Alex Mammarella e in ultimo Nicolò Dancelo a quest'altro lato c'è il gruppo degli allievi di mister Gabriele di Felice sono suddivisi già in due gruppi uno con la classica maglia gialla blu gialla e l'altra con le casacche bianche adesso il mister l'ha messo in cerchio i ragazzi c'è Karan esegue gli esercizi fisici di respirazione abbiamo mister Gabriele a fianco con la casacca bianca c'è Guido a seguire contro radio c'è Pitbull Gabriele Donofio Cristian Nasuti Andrea Delbello Renzo Campitelli qua Alessio Ceroli Riccardo Delbello Bartolo Cirillo Polanero Amedeo Caran Michele Lele Nicola Perrucci Marcello Alessandro e l'altro è Costantini Antonio Polanero Eteide Mata e dopo c'è il mister allunga le gambe Michele allunga la gamba per tirare bravo bravo stringetevi al cerchio allenamento qua della vittoria di Castelfrentano a questo altro lato c'è due dei tre portieri che abbiamo in organico in porta adesso c'è Cocco Francesco e qua c'è Johnny Perrucci che al 100% domenica esordirà nella prima squadra militante in seconda categoria Girone a Guardia Grele si aggregherà con i compagni più grandi e farà il suo esordio a 16 anni nella prima squadra in bocca al lupo a Johnny Perrucci anche se c'è qualche acciacco ma il solo fatto di esordire nella prima squadra gli fa passare tutti i dolori che c'è ecco qua sempre il gruppo degli allievi e in ponto quelli dei giovanissimi a guardia lì la prima squadra lì a guardia lì a guardia pure a guardia che c'è la lavoro a guardia dileni a guardia daająci a guardia